Fervoni preparativi sull'intero territorio regionale per la prima edizione della giornata del mare e della cultura marinara in programma lunedì prossimo 11 aprile. Una giornata dedicata al mare, alla sua bellezza, alle sue potenzialità, a rapporto con i cittadini campani in occasione della giornata nazionale dedicata all'oro blu, sancita da un apposito decreto legislativo. Un appuntamento che sarà celebrato con iniziative previste in tutta la regione grazie all'organizzazione promossa dall'Associazione Circoli Nautici della Campania, che mira a valorizzare una delle risorse più importanti della regione e al contempo a porre l'accento sulle numerose attività svolte dalle realtà che operano col mare. I circoli nautici, le leghe navali, la marina militare, le capitanerie di porto, le istituzioni e le associazioni sempre attive in tal senso. A promuovere la prima giornata del mare e della cultura marina è l'Associazione Circoli Nautici della Campania, un'associazione nata da una legge regionale proposta dal consigliere regionale Franco Picarone. L'idea, spiegato, è stata presa ad esempio anche da altre regioni che hanno tratto spunto dalla nostra legge per istituire realtà simili sui loro territori. Tanti gli appuntamenti previsti per lunedì prossimo, 11 aprile, con il pieno coinvolgimento dei circoli, delle sedi, delle capitanerie che si trovano in prossimità dei circoli aderenti all'Associazione di altre istituzioni e realtà che si affacciano sul mare del Golfo di Napoli e di Salerno. La giornata del mare, c'è una legge dell'anno scorso, a firma mia, che demanda all'Associazione Neocostituita dei Circoli Nautici della Campania la gestione e l'organizzazione di questa giornata del mare, che sarà l'insegna di premiazioni, coinvolgimenti delle scuole, dei ragazzi che hanno partecipato ai corsi degli sport dilettantisti, cinautici, organizzati dai corsi, vela, cinautico, ma anche tennis ed altre discipline dilettantistiche. Sarà anche una giornata di solidarietà perché saranno coinvolti i bambini profughi dell'Ucraina che saranno inseriti all'interno di questi programmi di corsi per cercare di inserirli in un contesto di vita normale essendo fuggiti da contesti terribili che sono quelli della guerra tra Russia e Ucraina. Credo che sia importante che da questo mondo, che è un mondo che ha la passione degli sport, ma anche del mare e dell'ambiente, venga questo segnale di solidarietà proprio nella giornata del mare, che è una giornata che sappiamo è istituita con un decreto legislativo del 2017 della giornata nazionale della festa del mare. Una giornata di riflessione, una giornata di festa, una giornata per sottolineare l'importanza della risorsa mare? Assolutamente. I circoli nautici, con la legge sui circoli nautici, esaltano questi valori e li istituzionalizzano in qualche maniera, le istituzioni fanno emergere queste caratteristiche dei circoli nautici. In realtà i valori sono quelli della solidarietà, dell'amore per il mare, dell'ambiente, del rispetto della natura e credo che questa giornata, che poi si ripeterà ogni anno, affidata all'Associazione dei circoli nautici, servirà soprattutto per indirizzare la cultura delle giovani generazioni verso questi valori. Grazie.